Dopo cinque risultati utili consecutivi, il Real guardiavomano ha come obiettivo quello di non fermare la tendenza, continuando ad alimentare la speranza play-off. Gli undici di Adamoli devono fare i conti con una delle squadre più quadrate del girone, il Varano, che ha raccolto un bottino di undici punti nelle ultime sei giornate. In un campo in condizioni non proprio ottimali, i locali sfiorano il vantaggio al sesto, quando sul buon cross di Piccone Cichetti riesce a colpire di testa senza inquadrare lo specchio della porta. Due giri di lancette più tardi, la risposta ospite passa dai piedi di Gallo. Spinelli non trattiene, Pellone si avventa sulla sfera, ma incontra prima il corpo dell'estremo difensore, pronto a rimediare al suo precedente errore. Al diciottesimo remake della prima punizione, anche in questa occasione l'asse Piccone Cichetti non risulta efficace. Minuto diciannove, caos in area real guardiavomano, i locali si salvano e chiudono lo specchio agli avversari. Al trentatresimo Di Giuseppe non trattiene la sfera, partita dal punto di battuta di un calcio di punizione, rischiando e non poco, i padroni di casa spazzano in corner. Un primo tempo che si chiude senza troppe emozioni, così come i primi venti minuti della ripresa. Al ventiduesimo il guardiavomano conquista un calcio d'angolo sull'auto di destra e sul pallone spedito in area Di Giacinto prova un rasoterra, con gli ospiti che si salvano in extremis sulla lina di porta. Al ventinovesimo il subentrato di Stefano fa tutto bene, il classe 2002 del Varano, grazie ad un rimpallo favorevole, riesce ad avanzare e a concludere, con il portiere locale attento a non farsi superare. Al trentacinquesimo i gialloverdi cercano di sfruttare una punizione con l'esecuzione di Francia, Spinelli anticipa tutti e allontana, subendo anche fallo. E' il preludio al gol, questa volta il pallone giusto arriva dalla bandierina, con Di Stefano che stacca e Di Tessa fredda l'estremo locale, portando in vantaggio il Varano a pochi minuti dal tripice fischio. Al quarantunesimo Pellone calce in caduta, ma la sfera è centrale, nel forcing finale il guardiavomano non riesce a creare abbastanza, nonostante le soluzioni adottate dal tecnico Adamoli. Un pallone messo al centro da Cacioli non viene sfruttato al meglio dal suo compagno, che preferisce la sponda alla conclusione, gettando al vento l'opportunità del pari. Tre punti importanti conquistati dagli udici di Mister Falasca, stop del guardiavomano che non perdeva dallo scorso 26 novembre.